Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live, oggi faremo la ventitresima giornata di ritiro e niente, siamo con l'Italia, l'amichevole contro la Polonia e niente, già ho fatto la formazione siamo sempre nella stagione 2011-12 e niente, cominciamo ragazzi tranquilli, ma come potete vedere è una cosa che non mi sentite, vediamo l'audio perché sennò voi non mi sentite e niente diamo il calcio d'inizio, parte l'Italia con Giovinco, la regala Lewandowski, Milik, la recupero a Bonucci Giovinco, attenzione Giovinco, stava per fare autogol, De Santis Bonucci Bonucci 1-0 Italia 1-0 per l'Italia Leonardo Bonucci la mette a segno Lewandowski 4-0 Italia Fuori Tesantis Bonucci Spazza via Lewandowski Bonucci La manda fuori Milik, la recupera Giovinco La recupera Diamanti Attenzione fuori Partita molto equilibrata Chiellini Balotelli Balotelli Che tiro Attenzione Di testa aggressivo Mentre acerra l'Italia Con Balotelli Balotelli buona 2-0 Italia Bel gol di Mario Balotelli Italia 2 Polonia 0 Attenzione Chiellini Dopo un minuto Italia 3 Polonia 0 Scusate se Quando io dico Il punteggio Mi viene na Perché sono abituato a dire Napoli Ma Mi correggo subito Tranquilli Comunque Nel mentre accelera Giovinco Fine primo tempo Comincia il secondo tempo Attenzione Azione Della Polonia De Santis Buonucci Giovinco Scambia con Cassano Cassano Becca il pano Attenzione Difende Chiellini 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 Doppietta Italia 4 Polonia 0 Lewandowski Attenzione E riapre la partita La Polonia Italia 4 Polonia 1 Non c'è arrivato De Santis Attenzione Giovinco Furi Attenzione Attenzione Diamanti Buona Buona ancora per Balotelli Furi Sarà calcio D'angolo Per l'Italia Attenzione Va a cercare Giovinco Furi Attenzione Balotelli 5 a 1 Italia Italia 5 Polonia 1 Lewandowski Strappa Chiellini Attenzione Colpo di testa Attenzione Autogol Italia 5 Polonia 2 Autogol Che errore Di Bonucci Attenzione Bonucci Si fa perdonare Con il 6 a 2 Dell'Italia Italia 6 Polonia 2 Che partita Ragazzi Che partita Presta Bonucci Fuori Rimessa laterale Per l'Italia Bonucci Chiellini Diamanti Diamanti E finisce qui L'Italia vince 6 a 2 Contro la Polonia Va bene ragazzi Spero che questa live Vi sia piaciuta Lasciate like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.